Musica Siamo al Presso Buonaccorsi, una bellissima struttura che va ovviamente riqualificata che può diventare un vero e proprio gioiellino della frazione e non solo per ospitare i bambini della materna. Sono circa 80.000 euro con fondi Cipe, un finanziamento che è stato approvato già il 30 giugno del 2014, adesso siamo alla consegna dei lavori, quindi il lavoro fatto durante l'anno ha dato i suoi frutti. Sì, è un presso scolastico che merita tantissimo, perché come è collocato intorno al verde è sicuramente a grandissime potenzialità. Necessitava di un grande intervento di ristrutturazione e quindi sono felice che questo possa avvenire e anche in tempi brevi, così da settembre, possiamo anche riaprire con un ambiente fondamentale e molto più dignitoso per la frequenza dei bambini. Assessore, ma questi fondi ce li abbiamo già oppure li stiamo anticipando con casse comunali? Il tecnico, vediamo il tecnico. Ogni stato di avanzamento noi dobbiamo smettere al Ministero, il Ministero farà la recuperazione delle somme. Dico, ma al momento li stiamo anticipando? Al momento stiamo iniziando i lavori, ogni stato noi lo smettiamo al Ministero, il Ministero farà la recuperazione delle somme. Se non abbiamo faccio i lavori, il Ministero non manda niente. Ok, quindi non c'è un'anticipazione? No, abbiamo il finanziamento.